il tema novità di quest'anno sicuramente è quello a tema dolci e abbiamo dei colori delle decorazioni che non sono propriamente del periodo natalizio ma in realtà stanno piacendo tantissimo la clientela e sono un pochettino una novità di questo natale 2023 quindi ad esempio le calecca gelati ciambelle candy cane tutto quello che riguarda un po il tema dolciario e questi colori particolari e stravaganti ma pur sempre molto d'effetto anche se in realtà i grandi classici come il rosso l'oro o il bordeaux l'argento sono sempre molto richiesti vi ricordo tutte le animazioni e la magia del natale che potrete vivere al garden center florio durante i weekend quindi sabato pomeriggio domenica tutto il giorno ci saranno babbo natale nella sua casetta che aspetterà i bambini per la consegna della letterina la slitta di babbo natale dove fare una foto o un selfie come ricordo e poi la dolce cavallina all'interno del presepe con una location completamente rinnovata quest'anno tematizzata con delle piccole casette a stile nordico avremo poi una serie di laboratori più e più piccolini regaleremo un narciso per ogni bambino il quale potrà piantarlo all'interno di un vasetto e aspettare pazientemente la fioritura nel periodo primaverile e poi la scrittura della letterina all'interno del laboratorio dedicato con l'aiuto degli elfi per poi consegnarla direttamente a babbo natale e poi l'immancabile laboratorio dell'alberino dove ci sarà la possibilità sempre con l'aiuto dell'elfo di babbo natale di piantare un alberino in un vaso di terracotta e mettere insieme il primo addobbo la novità di quest'anno che oltre ad essere arrivato babbo natale abbiamo anche il grince i due molto spesso tendono un po a litigare si fanno scherzi a vicenda ma il grince è assolutamente molto contento di aspettare i bambini tutti i sabati pomeriggio e domenica pomeriggio e per chi ci segue da tempo si sarà chiesto che fine avrà fatto il presepe quest'anno ha un'ambientazione tutta sua più calda un pochettino più intima dove potrete ammirare un presepe con figure a grandezza naturale vi aspetto al garden center florio per vivere l'atmosfera natalizia perché siamo aperti tutti i giorni e tutti i giorni sarà natale ma i weekend saranno magici vi aspetto al gardenerio per vivere l'atmosfera natalizia per vivere l'atmosfera natalizia per vivere l'atmosfera natalizia vi aspetto al gardenerio per vivere l'atmosfera natalizia per vivere l'atmosfera natalizia per vivere la